In questo video vi disegno la bella della bestia, però se faccio male la tecnica fa niente perché voglio disegnare come voglio io, ok? Quindi niente commenti come... perché disegno in questo modo strano, no? Grazie e iniziamo, vai! Grazie. 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 Grazie a questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete like e sotto i commenti dite se volete un altro video di questo genere. Ciao e al prossimo video.